Questo libro nasce nei mesi caldi del grande attacco portato contro la Chiesa e contro il Papa a partire dai casi di pedofilia avvenuti in varie parti del mondo. Nel libro cerco di dimostrare come questi fatti, che purtroppo sono avvenuti, che sono indubitabili, siano stati strumentalizzati per una battaglia autentica contro la Chiesa Cattolica, in particolare contro Benedetto XVI. La tesi che è al centro del libro è che questa battaglia sia giustificata dal fatto che Benedetto XVI si è schierato apertamente contro il relativismo e chiede alla cultura contemporanea di tornare a confrontarsi con l'idea di verità. Questo è un pensiero che infastidisce molti e che entra in rotta di collisione anche con interessi di grandi gruppi, di grandi potentati e di qui lo scontro che si è verificato. Nel libro ripercorro questi mesi difficili ma cerco anche di far capire quali sono i temi portanti al centro di questo pontificato di Benedetto XVI, un pontificato che ancora è segnato da molti pregiudizi che gravano su questo Papa.